Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi torniamo alla Domenica Horror Ritorniamo su Edors, è stato aggiornato dopo un millennio ragazzi È stato aggiornato, nuove aree, nuove facce per la testa di cavallo, eccetera eccetera Allora, vediamo se c'è qualcosa qua da fare Lingue Tutto tranne che l'italiano, meglio così Abbiamo un cavallo che non parla l'italiano, 18.000 lingue che non parla l'italiano Facce di cavallo Va bene così, andiamo a giocare, forse Allora, sezione difficoltà È pratica, ovviamente lui non c'è in pratica, giusto? Non è a casa, ok È facile, lui cammina lentamente, cammina più veloce, cammina molto veloce Tra l'altro c'è pure il Nightmare e il Madness da sbloccare Grande così Allora, qua abbiamo invece Ah, diverse teste per il nostro Edors No, vabbè Questo è quello di Silent Hill Questo è l'animatronico Jason No, vabbè Il Sushi Man No, fighissimo Per selezionare queste teste Dopo guardarci un video Va bene Per adesso selezioniamo quello classico Va così lo rivediamo Modalità facile E andiamo C'è anche il Dark Mode Meglio evitarlo Va, altrimenti non vediamo niente Start È da tanto che non gioco a sto gioco effettivamente Quindi me lo devo ricordare Da cima a fondo Eccomi qua Sto andando a casa di Mr. Cavallo Ma poi che ci sei Ma io lo ripeto sempre Ma che ci sei venuto a fare qua Che ci sei venuto a fare Dico io Ma perché tutta la gente Normale se ne va in posti del genere Non lo capisco Non lo capirò mai Questo già l'avevamo visto Se non sbaglio nel Quando abbiamo fatto la prima volta Diamoci una ripassata Perché sei venuto a recogliere i funghi Fammi capire Che c'è Ah ok C'è la strada bloccata E giustamente lascia la macchina in mezzo alla strada E se la fa a piedi Giustamente è così che funziona Ok Ah perché sta tentando di Ciao Ma come sei carino Ma come sei carino Stava cercando di rimuovere i tronchi A suo senso E invece ha incontrato Edors Day one Allora adesso io mi devo ricordare tutto Ovviamente Ovviamente Allora La stanza dove resuscitiamo E' sempre questa Cominciamo a cercare come se non ci fosse un domani Ecco questo effettivamente me lo ricordo Il fusibile Questo me lo ricordo E qua Il codice 8384 E' buono Lasciamo qua Il fatto di cercare nei cassetti E' una rottura di scatole Perché Perdete un sacco di tempo A cercare nei cassetti Vabbè Quanto meno Fusibile e codice Ce li abbiamo Io prenderei subito Il fusibile Allora Che se non sbaglio C'era un posto dove Inserire fusibile E codice Sì ma se prendessi il fusibile Vediamo il codice Prima Aspetta quant'era Memorizziamolo Sempre se lo piglia 8384 Ok E' facile Butta qua A prendere il fusibile Prendi il fusibile Il fusibile Lo devi prendere Non devi chiudere il cassetto Devi prendere il fusibile Ok Ci siamo Meglio così Benissimo Possiamo uscire No Direi di no Ma direi di Dove mi nascondi Nell'armadio Nasconditi velocemente Ed è messo in facile Sei entrato? Ma visto Se è andato Non è entrato Non entra nella mia stanza Oh meno male Dov'è? Si è scappato Allora Se non ho sbaglio Il fusibile Deve essere inserito giù E quindi scendiamo subito Ok Io Sto andando alla cieca Perché non è che mi ricordo Precisamente Forse è qua Se non sbaglierà qui Ok Perfetto Inseriamo il fusibile 8384 Forza 83 Eh Prima che scende quello 84 Opened Ok Perfetto E qua abbiamo la sala Delle torture dei dors Guardate qui Quello che è combinato Sto facci di capo Ok Ok c'è una porta Eh tra l'altro Non ha aggiunto Zone segre Ecco Questo prima non c'era Se non sbaglio Questa è la cantina Non c'era prima Vediamo un po' quello che Mamma mia Che dispersiva Non è che lui Arriva fino a qui Presumo di si Sembra la cantina Di Ericksen Il gioco che ho fatto Un millennio fa Allora Che c'è qua Un bidoncino Ok Non li prendo Perché poi li vado A perdere in giro Quindi preferisco Lasciarli dove li trovo No Ho sentito Parlare Mi sta raggiungendo Che c'è qua Il grano Qua Una chiave Chiave Dell'attico Chiave Dell'attico Io sono in cantina Come ci vado All'attico Che favolo Però adesso Lasciamo Io ho paura di lui Io ho una paura Immensa di lui Che non c'è Che poi spunta Allora Allora qua Non vedo altro Ok Il play button È qui Dobbiamo recuperare Tutti i pezzi Per sbloccare La stanza segreta Dove troveremo Tutti gli youtuber Uccisi Ovvero Tutti quelli che hanno Giocato al gioco Qua mi posso nascondere E qua non c'è altro Qua il maglietto Una pinza Me lo piglio Le pinze Me le piglio Qua c'è Sento parlare Qua c'è una porta Con cui non si interagisce Invece sì Ok Dobbiamo trovare Dobbiamo trovare Tutte queste cose Queste sono tutte chiavi Da trovare No ma vabbè Ce la faremo Prima o poi No Non mi checciare Per favore Non mi checciare Ecco Impallati là va Fortunatamente Forse perché È messo in facile Ma anche se ci vede Nasconderci Non ci piglia E questa è una gran cosa Non so se In altre difficoltà Però le cose cambiano Però nel frattempo È così È che Sono rimasto impallato Qua dentro Non posso più uscire Come esco? Si è buggato Ma si è buggato il gioco Si è buggato il gioco Si è buggato il gioco Che bello Che bello Allora visto che l'abbiamo visto Già Andiamoci di pratica Va così almeno Esploriamo un po' meglio Quella cantina Non è che posso stare qua A nascondermi Che mi si bugga pure il gioco E ripeto sempre all'inizio Allora se io mi nascondo Giusto Dove avere anche la possibilità Di uscire Giusto Ecco Poco fa sto pulsante Non c'era Vabbè Come dite voi Allora qua c'è sempre il fusibile Ovviamente no Ovviamente no Gli oggetti si spostano Grande cosa Veramente Le porte in faccia No però Allora Vediamo un po' Esploriamo Molto velocemente Il problema è che Ogni singolo cassetto Può nascondere una cosa E perdete un sacco di tempo Per trovarle Ste cose Perché di cassetti Ce ne sono un'infinità Guardate lì quanti ce n'è Ok apri 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 Infilo la testa dentro il cassetto Apri Ok una chiave Chiave La tool Souski Ok possiamo vedere che c'è fuori Allora Io però vorrei continuare nella cantina Ancora non l'abbiamo esplorata Vabbè Procediamo 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 Altra cassettiera Altra stanza Aspetta un attimo Una cosa alla volta Già mi sono perso Cassettiera Il codice 4846 Vabbè Butta il codice Io avevo una chiave però Prendiamo la chiave 4846 Qua abbiamo il fusibile Va bene Vediamo che c'è la tool Oppure andiamo direttamente Andiamo direttamente Continuate a sparare la cantina 4846 Prendiamo il fusibile In cantina Deve esserci qualche altra cosa Qua invece Abbiamo che cosa Un armadietto È chiuso Qua si scende E qua c'è il bagno Dove Non so se Dobbiamo spaccare qui No non credo Vabbè Torniamo giù Va ho capito 4846 il codice Giusto Non ce lo scordiamo Che poi facciamo avanti e indietro Come i camber Qua c'è una cosa Abbiamo la vault key È qua Chiuso C'è chiuso Non c'è niente Da qua si va in cucina Da qua se non sbaglio No Mi devo ricordare praticamente tutto Questo gioco Qua abbiamo altre cose E qua non c'è niente Non c'è niente Meglio così Vabbè Niente Scendiamo perché mi scordo il codice 4846 Ah qui è la cucina Allora Ok Vabbè scendiamo per adesso Via Come se non ci fosse un domani Andiamo ad inserire Sto cacchio di coso Allora 4846 4846 Aperto Via 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 Ah qua c'è una cosa adesso La padlock key Vabbè Procediamo Intanto procediamo Allora Che strada ho fatto io poco fa Andiamo da questa parte Apriamoci anche gli occhi Non sappiamo se si nasconde Qualche altra cosa Visto che Gli oggetti cambiano di posizione Il bidoncino è sempre qua Possiamo procedere Andiamo da questa parte Armadietti È una porta Si apre la porta? Sì Mamma mia che mensa sta cantina Mi son perso È un labirinto Non è che è una cantina questa Che c'è qua? Un libro La pagina è leggibile Grande così Che dobbiamo fare? Un rituale? Una cassetta È chiusa? No è aperta Un fogliettino Auguri Si apre? Si apre ulteriormente Ok Un puzzle Wow È il gioco dei 15 Aspetta Mamma mia Adesso ci starò mezz'ora Qua per risolvere questa cosa Questo qua Questo qua Questo qua E questo qua Completo È manco un pezzo È tre ore che qua risolvo la cosa E poi mi fate mancare i pezzi Vabbè Ah perché prima giustamente Lo dobbiamo completare E poi inseriamo il pezzo mancante Va bene Da dove procedo? Perché qua mi mettete troppe stanze Per i miei gusti Di qua Che c'è? Di qua Attrezzi Prendo una tenaglia Non c'è niente qua Stanza vuoto Armadietto Vuoto Tutto vuoto Tutto vuoto Me ne vado Da qua Chiuso Porta barricata Qua Porta barricata Tutto barricato Vabbè Qua abbiamo risolto il puzzle L'attic key Ok Il play button Lo andiamo ad inserire Magari riusciamo a trovare tutti i pezzi Se non sbaglio Eccolo qua Perfetto Inseriamolo Torniamo a prendere la range Eccola qua E direi che possiamo salire Perché non c'è altro Almeno Non trovo più niente qua Andiamo a smontare il lavello Qua ho esplorato tutto Giusto che mi fate perdere qualcosa Vabbè Forse risaliamo Risaliamo Perché già abbiamo perso un sacco di tempo E qua ricordiamoci Che c'è questa chiave La padlock key Ma quindi abbiamo due porte Di uscita La porta principale Che è da queste parti Eccola qua Quindi Sì sì La padlock serve ad aprire questo Giusto Perché sotto abbiamo anche un'altra porta Quindi probabilmente ci saranno due metodi per uscire Allora Il lavello Lo potevo smontare da qua E abbiamo anche un altro pezzo di Play button Utilizziamo la range qui Perfetto E' caduto qualcosa La cabinet key Intanto mi piglio il play button Ma andiamo ad inserirlo Veloce Veloce Tra l'altro qua si nasconde una marea di cose ancora Tutta la cucina Può nascondere oggetti Perché ci sono un sacco di cassetti E cose varie Guardateli quanti cassetti Pensate con lui che gironsola per casa Quanti cassetti dovete aprire con lui che gironsola E che vista con il fiato sul collo E insomma non è facile sto gioco Ok via Via e via Non c'è niente ora da aprire i cassetti Non mi fate trovare niente però Eh c'è pure la festa di complanno di Adors Guardate lì E vuole festeggiare con noi Giustamente Qua se non sbaglio c'è qualcosa Niente Altri cassetti Altri cassetti Ma che bello Ma che bello Ma che bello Niente Non c'è altro Inseriamo anche questo pezzo E ci manca l'ultimo Ottimo così Va bene A sto punto io direi di Uscire nel cortile Andiamo ad esplorare lì Però nel dubbio Mi avvicino la Tic Key Visto che Verrà utilizzata sopra È inutile che la lasciamo qui Ce l'avviciniamo quantomeno Forza Saliamo saliamo Prendiamo quindi la Tuls House Key Che va utilizzata nel cortile Almeno questo me lo ricordo Ed usciamo Forza Usciamo È chiusa la porta No giusto È aperto Oh Puri i pipistrelli Ok Esploriamo qua bene Perché Non tocchiamo quel cancello ragazzi L'ultima volta sono morto come uno scemo Quel cancello è elettrificato Quindi non tocchiamo Ok La Tuls House Sarebbe questa Qual è Questa Ok Abbiamo la batteria Dopodiché non c'è nient'altro Batteria La batteria Qua c'è un altro armadietto Niente La batteria la prendiamo Vediamo dove che va inserita Poi c'è altro Questo capannone Ok Ah ok La macchina Ecco Potremmo scappare anche in macchina Adesso dico Eh Quindi abbiamo tre modi per uscire Sia in macchina Sia da lì La batteria la mettiamo qua Sia da lì Dalla porta principale Sia da quella nuova porta Cagnolino Ce ne sono Esploriamo un altro po' qua Che è? Ah L'enjem belt Qua la cinghia La cinghia non mi interessa Sì pure qua la campanella Ci mettevi Il rubinetto con la quale riempire il bidoncino Ok Per il carburante ovviamente Ma ripeto Uscire in macchina non è il mio obiettivo Io vorrei risolvere l'enigma che c'è in cantina Il problema è che qui non trovo più niente Qua abbiamo bisogno di code Il giravite Per svitare qui Ok Niente Me ne posso andare Ho sperato tutto qui Mi perdo qualcosa Non lo so Rientriamo Rientriamo All'attico si accede da qui Ok Ovviamente la porta è chiusa Giusto Perché giustamente ci serve la chiave Ecco qui un altro pezzo Oh perfetto Abbiamo trovati tutti Allora vediamo qua Qua non c'è niente Qua non c'è niente Qua non c'è niente E invece no C'è il giravite Ok Dopodiché Questa è aperta Tutto aperto Io mi sono perso già Io già mi sono perso E qua siamo all'attico no Ma non ci voleva la chiave Com'è È tutto aperto qui A che mi serviva la chiave del latte Un bagnetto Con tanti disegnini Dentro non c'è niente No È tutto aperto qua Ok questa è chiusa Questa è chiusa effettivamente Ci serve la chiave del lattico Va bene Allora Che facciamo Andiamo ad inserire il play button Vediamo che c'è dentro Dopodiché torniamo qua Con la chiave del lattico Forza Eccoci qua Inseriamo quest'ultimo pezzo E vediamo quello che c'è dentro Eccomi Eccoci qua ragazzi La stanza degli youtuber Ovviamente non ci sono io E ti pareva Chi è questo Spider gaming Eh Questo non lo conosco Questo non lo conosco Ok questo lo conosco The place Dopo abbiamo LBD Dopo abbiamo Topsy Dopo abbiamo Junior Sky Tutti americani Comunque Tutti americani Vabbè E nel pc Che abbiamo Grazie per giocare il nostro gioco Ok Sì ma inseritemi però Non è che è possibile Tutti americani Un italiano ci deve stare Vabbè Per me ne posso andare Me ne posso andare Eccomi qua Vediamo che c'è dentro Un buco Questo casino che ho fatto Per trovare un buco Ok una cassa È chiusa E ti pareva Mi fanno fare avanti e indietro Come una scensola Queste aperte Che c'è qua Mamma mia Che avete combinato Che è successo Sono precipitato Che è successo Dove che sono precipitato Fammi capire Qua non ce ne sono Buche Sono precipitato a caso Allora Puzzle Ah Trovato Abbiamo trovato Il pezzo di Di puzzle Ho sentito brutti rumori Ah ho buttato la chiave Ok ricordiamoci Che qua c'è la vault key Va bene Andiamo ad inserire Questo pezzo di puzzle Allora posso buttarmi da qua Allora Facciamo Ecco Qui è giusto Ma dove sono precipitato prima Non lo so Come ho fatto a precipitare Allora Vediamo che succede Se inserisco questo Una chiave Ok Mi si è bugato il gioco Si è buggato No Si è buggato Si è Prendila Mi si è buggato il gioco Ma stiamo scherzando Sbuggati tizio Ti prego Aspetta Ma trovo Ma dai Prendi sta cacchio di chiave Magari Se riesco a prenderla Magari si Si sblocca Ma tutte a me Capitano Ma stiamo scherzando Niente ragazzi Mi si è buggato Di nuovo Aggiungerei Non riesco a prenderla Guardate lì Mi son Mi son piantato Nel cassetto Vabbè Affan cucchia Tre ore Cerco le cose Poi mi si bugga così Vabbè ragazzi Vi invito a provarci voi Prendete sta chiave Fatemi sapere a voi Che cosa succede Probabilmente va inserita In quella porta Quindi mi raccomando Lasciate un bel like Vi ricordo che vi seguiamo A questa pagina di facebook Twitter A tutti i social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto A prossimo video Oggi siamo su Scary Teacher Altro gioco consigliato da voi Effettivamente esiste Già da un po' di tempo Ma non so perché Non l'ho mai portato Ecco Noo Fighissimo